L'attività compensativa integra la pratica del giuroadattato, in modo da potenziare le abilità dei ragazzi in un rapporto stretto. In questa fase è opportuno lavorare in piccolo gruppo. Il rotolare porta alla percezione della superficie corporea, in quanto è lo sbilanciamento di tutto il corpo, che entra in contatto con una superficie rigida. Nell'intelletto non vi è nulla che prima non sia stato nei sensi. Il gattonare attiva il coordinamento occhio-mano e la scomposizione del movimento in sequenze diverse. L'attività Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sarebbero da dire ancora molte cose sui protagonisti della nostra storia. Per esempio qualcuno abbandonato per l'età, ma ancora ricorda e sorride incontrandoci. Altri, che in tutti questi anni il Judo non l'hanno propriamente fatto, ci tengono moltissimo a indossare comunque il costume ed essere presenti tutti insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Utopia significa fede in qualcosa che non fa parte della realtà presente. Qualcosa che magari non farà mai parte di alcuna realtà, ma in cui fermamente si crede. Perché non credere è come abbandonare ogni speranza e rassegnarsi a perire. Noi ci abbiamo creduto.